Tiene, sanzioni per oltre un milione e mezzo di euro inflitte dalla Guardia di Finanza di Vicenza a carico di un titolare, di un dipendente, di un money transfer e a 187 clienti che hanno effettuato operazioni di trasferimento di denaro irregolare all'estero. E' quanto è emerso dalla recente attività di controllo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo effettuato dalle fiamme gialle. Nel merino dei finanzieri della tenenza di Tiene l'attività di un cittadino pakistano titolare di una agenzia di trasferimento di denaro all'estero con due sedi nel nord-est, una a Merano, l'altra a Tiene. Esaminate circa 35.500 transazioni effettuate nel 2021 nella prima metà del 2022. La Guardia di Finanza ha individuato 235 operazioni che hanno trasferito in Marocco, Pakistan, Bangladesh e India a quasi 400.000 euro frazionati in più versamenti in maniera irregolare aggirando la normativa antiterrorismo vigente.